Quello della sanità rimane uno dei banchi di prova più importanti per la giunta regionale. Nominati i nuovi direttori delle ASL, rimangono aperte le questioni dei nuovi ospedali. Quello di Teramo, ad esempio, per la cui costruzione sono già stanziati circa 82 milioni di euro, il resto del denaro dovrà essere riperito tramite project financing, ovvero tramite un privato a cui poi si dovrà garantire il pagamento di un canone per decenni. Per questo occorre un project financing che non si è improvvisato, affinché non venga generato un annoso debito. Parallelamente al nuovo ospedale, inoltre, non è ancora chiaro che fine farà quello vecchio. Oltre che a Teramo, un nuovo presidio sanitario dovrà sorgere anche a Chieti. L'ASL ha fatto sapere che continuerà a investire sul Santissima Annunziata di Chieti Alta, mentre allo scalo sia il distretto sanitario di base che il consultorio avranno una nuova sede. Per individuarne l'area, l'ASL ha già pubblicato un bando per la messa a disposizione di un edificio che rientra in un raggio di 500 metri dalla stazione ferroviaria. E non finisce qui. L'Abruzzo è infatti l'unica regione italiana a non essere dotata di un DEA di secondo livello. Gli ospedali di secondo livello sono quelli dotati di tutte le discipline, anche ad alta complessità, e devono servire una popolazione tra i 600.000 e 1.200.000 abitanti. Devono inoltre essere dotati del DEA, cioè dei Dipartimenti Emergenza Accettazione ad alta intensità. Il decreto legge, che ne regola le funzioni, prevede che tali dipartimenti siano collocati in un'unica struttura ospedaliera. Tuttavia la regione Abruzzo, negli ultimi anni, ha deliberato più volte l'istituzione di un DEA condiviso tra Pescara e Chieti e tra L'Aquila e Teramo. Finora però nessun passo concreto è stato fatto in questa direzione. All'attacco l'ex assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci, che dai banchi dell'opposizione accusa la Giunta di non aver partorito nemmeno un atto in otto mesi di governo. Tutto è fermo. Non vorrei che, poiché si è ingabbiati sulle promesse elettorali, che poi non si è in grado di mantenere e rispettare, non si sia in grado di decidere, scegliere e senza la rete ospedaliera noi non avremo né i nuovi ospedali né le nuove assunzioni. È sempre di più una Giunta lenta, ferma e immobile perché immagina di galleggiare per non scontentare nessuno. Ma cinque anni così non reggono e rischiamo di perdere centinaia di milioni di euro già assegnati alla Regione Abruzzo per i nuovi ospedali.